Segue il sentiero, signor Masudi. Cammini dove grandi uomini prima di lei hanno camminato. Sì, signore. E il carattere di un uomo è il suo destino. E da studioso di storia trovo difficile confutare questa teoria. I giovani uomini riuniti qui erano tra i più affermati e influenti della loro generazione. Ma io li conoscevo da molto prima. Erano stati i miei studenti. Signor Bell. Signor Andert. L'ignoranza può diventare istruzione e l'ubriachezza sobrietà. Ma la stupidità dura per sempre. Il Club degli Imperatori. Giovedì alle 21.15.